Cari amici dell'inchiesto fresco, buongiorno, siamo a Basaluzzo, sulla provinciale che collega Novi Ligure con Ovada e siamo giunti qui perché siamo stati avvertiti di una rapina che da poco tempo è stata fatta ai danni di questo distributore di benzina. Stiamo cercando di reperire delle notizie e appena possibile, quanto prima, tenteremo di darvele. Questo è un autolavaggio distributore molto operoso, molto conosciuto, gente che lavora e a noi ci dispiace vedere queste cose e purtroppo le dobbiamo documentare perché è nostro compito farlo. I carabinieri stanno svolgendo il loro lavoro e speriamo che riescano quanto prima ad individuare questi malfattori che hanno così. Andiamo a cercare di sentire qui al bar vicino qualche commento.